Vivere distanti è naturale e questo è il nuovo slogan della campagna promozionale della regione Abruzzo, volto ad attirare turisti stranieri, ma anche italiani e gli stessi abruzzesi. L'Abruzzo così promette istanti da incorniciare, ma con un gioco di parole si intende anche la distanza, un lusso in questo periodo Covid, che può essere garantita nella vastità della natura abruzzese. Lo spot sarà trasmesso anche durante Juve-Milan, il big match di Serie A che sancirà la ripresa del campionato. Credo che abbiamo ottenuto un grande risultato, ci abbiamo lavorato con pazienza, gli uffici che li ringrazio hanno fatto un grande lavoro, perché domani c'è la ripresa del calcio, che credo sia la passione degli italiani, con un match importante, una semifinale di Coppa Italia, Juve-Milan, e prima della partita e durante l'intervallo ci sarà lo spot della nostra regione. Credo che avere la possibilità di passare le immagini dove decine e decine di milioni di italiani ci sono, per noi sicuramente sarà un buon e ottimo risultato. Intanto l'assessore al turismo Mauro Febbo spiega che ci sono buoni segnali anche dal litorale, ma è boom per il turismo in montagna. Ciò che ci fa piacere è che anche la montagna quest'anno sta avendo un grandissimo risultato, quindi attenzione al mare, sì sicuramente, ma la montagna ha percentuali che negli anni passati non aveva. Partiamo con una campagna a livello nazionale, sui media nazionali come Radio e Mediaset, soprattutto utilizzando anche le nuove tecnologie di internet che stanno dando delle visualizzazioni, dei click, come si suol dire, con numeri milionari che ci fanno besperare. distanti che si vive, distanti di immagini belli da visita, e distanti nel senso che l'Abruzzo dà la possibilità di avere questa libertà di movimenti che magari dove c'è troppo affollamento, troppa partecipazione non ci si riesce, ecco perché abbiamo sottolineato questo ragionamento.